Il derby è stato vinto, la striscia positiva è stata allungata, ma alla Fortis Arezzo nel derby con l'indomita Quarata è mancata la cinica determinazione per chiudere prima, in proprio favore, il derby cittadino. Il Quarata, che non merita certo la posizione in classifica che attualmente occupa, ha rischiato di pareggiare l'incontro. La Fortis è andata in vantaggio al settimo minuto con Brunacci, si allunga comunque la striscia della Fortis che porta 15 risultati utili consecutivi, 13 vittorie e due pareggi, conquistando di diritto i play-off inimmaginabili a metà campionato. Una squadra che ha trovato la quadratura del cerchio, il giusto equilibrio tra reparto offensivo e quello difensivo, ancora qualcosa da perfezionare nella cattiveria sottoporta. Raggiante Mirko Latorraca e il presidente Francesco Martoglio dopo questa bella vittoria sofferta, sofferta, sofferta fino all'inverosimile, ma tanta soddisfazione Mirko dopo questo incontro che non mi ha regalato niente la formazione avversale a indomita Quarata, anzi, ci ha sperato fino al termine. No, ma che era sofferta la partita lo sapevamo, durante la settimana ce lo siamo detti, abbiamo preparato la partita in questo modo, dovevamo soffrire, coprire bene gli spazi e cercare di sfruttare delle partenze. Fondamentalmente potevamo stare sul 2 o 3 a 0 dopo 20 minuti, non l'abbiamo chiusa nemmeno nel secondo tempo e questo ha comportato un po' di sofferenza fino alla fine, però abbiamo fatto la partita che dovevamo fare e sono anche oggi contento per i ragazzi, perché con due giornate d'anticipo abbiamo raggiunto l'obiettivo dei play-off che ci eravamo prefissati nel suo stagione. Adesso c'è da finire la stagione il meglio possibile e prepararci bene per quello che verrà. Stiamo dal presupposto che sapevamo che oggi non venivamo a fare una passeggiata, con tutto il rispetto per le altre squadre di questo cirone che sono in fondo al campionato, il Quarata non è una squadra che merita la classifica vista oggi giocare, ma anche con tutto l'andamento del campionato. Il Quarata è una bella squadra e sapevamo che ci poteva mettere in sé la difficoltà. Noi siamo partiti bene, siamo andati subito dopo poco in vantaggio con Brunacci e potevamo anche raddoppiare con Pecorari e anche qualche altra occasione che abbiamo sprecato. Loro poi hanno preso quella traversa, quindi è una partita che si poteva pareggiare, vincere 3-0, quindi poteva venire fuori qualsiasi risultato. La partita dopo il primo quarto d'ora abbiamo cominciato a incanalarla nella via giusta e abbiamo preso una traversa. Abbiamo avuto un altro paio di situazioni davanti alla porta importanti e non siamo riusciti solo a buttarla dentro, però la crescita durante la partita è stata tanta e sinceramente io sono abbastanza contento della prestazione di oggi, anche se abbiamo sbagliato i primi 10-15 minuti dove abbiamo preso un gol per errori veramente un attimino di poca concentrazione.